signori e signori ci abbiamo l'estetista della serata fai vedere chiara fai vedere attenzione appena appena disboscato uno sposo è già certo qualità qui è da che roba sei riuscita per un pelo proprio per un pelo no anche per tre o quattro o quattro anche giustamente tu sei chiara chiara da brescia confermi con chi ti sposi di fatto con diego detto peli il peli colpo di scena colpo di scena no ragazzi una coincidenza incredibile chiara sposa diego peli e l'abbiamo beccata che strappava i peli quanto certo amore e amore amore allo stato puro ma proprio per un pelo l'ho beccata è fantastica bellissimo bellissimo è depilatissimo chiari depilatissimo a diego depilatissimo è tutto peloso no non così tanto però si è entrato senza vizi esatto e non ha peli sulla lingua no per niente dice quello che pensa tutte le dice ma che cosa ti ha colpito di diego i peli bellissimo un amore un amore nato proprio sul pelo ok quindi quindi immaginiamo diego come come cucino it praticamente cioè le immagini attenzione colpo di scena sposa cugino it ecco una roba belli bellissima fantastico di te che cosa l'avrà colpito diego a non lo so la stupidità la mia la mia capacità di fare le cerette alla capacità di fare c'è perfetto quindi praticamente voi serata io mirola già tra parli per la prima la prima serata così tu e stavano i peli quelli siccome è iperormonato no diego e continua a crescere si deve mantenere bello allora è una cosa costante però aiutino togli la cera togli il pelo e il pelo ricresce una roba quindi a lui proprio è sì perché non ha fatto l'epilazione definitiva quindi bisogna tenersi mantenuto e all'ormone che spinge e quindi continua a crescere il pelo e tu continui a strappare e la storia va avanti la vostra storia è così riuscirete prima o poi a limonare però magari ogni tanto sarebbe meglio un passaggio va bene facciamo un applauso alla nostra sposa che si sposa per un pelo con i peli e cugino it adesso bagnate bagnate bagnate